Non ce la fa Paul Derbyshire. Il flanker della Benetton Treviso si ferma per un problema lombare all'inizio del captain's run di questa mattina alla Pia Park e non sarà in campo domani contro Samoa. Nella rifinitura guidata da capitan Gerdinand, nell'impianto che domani le tre italiane ospita la sfida dell'Italia e il guerriere del Pacifico, il posto è il numero 6 toscano, va a Josh Furno con Manuel Bosavai che trova posto in panchina. Brunel assiste da bordo campo all'ultima seduta della settimana lasciando a Gerdinand il compito di dirigere l'allenamento. Lancia in gioco, Tush, una prova generale di tutte le strutture di gioco da mettere in campo contro i Samoani domani pomeriggio. È la sfida più difficile del Tour e gli azzurri, i veterani come Leo Ghiraldini in testa, lo sanno bene. Sarà una battaglia, sì, sarà sicuramente una partita molto dura sia fisicamente che anche per le condizioni meteorologiche particolari qui alle Samoa. È una partita dura perché Samoa sono una squadra molto fisica ma allo stesso tempo anche molto organizzata. Sono migliorati molto in questi anni, hanno una struttura di gioco assolutamente buona e i giocatori che abbiamo visto nella formazione titolare che fanno parte di squadre blasonate nel campionato europeo o in quello nord-zelandese. Quindi sono giocatori formati, preparati, che sanno quello che devono fare in campo e poi ci aggiungono la grande fisicità e la grande tecnica individuale che solitamente hanno l'isolato. Dobbiamo tenere la pressione per tutti gli 80 minuti, essere dominanti in ogni fase di gioco. Non possiamo avere cali mentali perché sappiamo quanto pericolosi siano i Samoani, li abbiamo visti anche l'anno scorso contro noi in Sudafrica. È una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi fase di gioco e per noi appunto sarà importante essere pronti con la testa, essere pronti fisicamente perché dobbiamo rialzarci, dobbiamo fare una gran partita tutti noi e bisogna riboccarci le maniche e assolutamente dare una grande prova in campo. Sì, la prestazione di avanti è stata abbastanza positiva, è anche vero che sia stata positiva nelle fasi statiche che possono essere quindi la mischia e la tusce, però dobbiamo essere molto più presenti anche in giro per il campo. Dobbiamo portare il pallone in avanti, dobbiamo dare dei palloni di qualità anche in giro per il campo ai nostri tre quarti, dobbiamo essere molto più attivi nel gioco sia in attacco che in difesa perché Samoa è una squadra capace di tenere il pallone per 15 fasi senza problemi e quindi dovremmo essere assolutamente pronti anche sotto quell'aspetto. Dobbiamo ripetere la prova comunque maiuscola in mischio ordinata e rimessa laterale, ma nello stesso tempo, ripeto, è molto importante il nostro apporto in giro per le racche e nei punti di incontro perché Samoa sono micidiali sotto quegli aspetti.